Carceri piemontesi. Se non ora quando e come non pensare di utilizzare parte dei fondi dell'Unione Europea per far fare un salto di qualità all'edilizia e alla sanità penitenziaria, sono gli interrogativi con cui il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano ha aperto la videoconferenza stampa di presentazione del quinto dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri in Piemonte. Se non ora quando, quando intervenire sulle criticità ormai croniche delle strutture penitenziarie? Come è possibile pensare una efficace ed efficiente politica di rieducazione e di reinserimento dei detenuti in carceri faticenti e spesso in condizioni più che critiche? La raccomandazione, raramente rispettata, di non giungere mai al 100% di posti occupati per far fronte a necessità di spostamenti o emergenze, ha aggiunto Mellano, è diventata drammatica nel corso della pandemia. Occorre operare affinché l'affollamento, che in alcuni istituti piemontesi raggiunge anche il 130%, non superi il 98% della disponibilità. Il documento, elaborato dal garante regionale in collaborazione con il coordinamento piemontese dei garanti, verrà indirizzato al capodipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, al provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Pierpaolo Dandria, al ministro di giustizia Alfonso Bonafede e ai sottosegretari di Stato Vittorio Ferraresi e Andrea Giorgis. All'evento sono intervenuti i garanti comunali di Alba, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Torino e Verbania, che hanno denunciato come gli istituti carcerari siano sempre più abbandonati a se stessi e necessitino di interventi di manutenzione troppo a lungo attesi e non più rimandabili. Il coordinamento piemontese dei garanti ha anche annunciato una serie di iniziative per il 2021, tra cui l'impegno per la costituzione della rete nazionale di case famiglie protette e la realizzazione di una casa famiglia protetta per mamme detenute con bambini, la terza in Italia. Auspichiamo che il governo risponda ai nostri appelli, perché la pandemia e il fatto che i vaccini non verranno somministrati probabilmente prima della primavera rischiano di congestionare e portare al collasso le strutture e i loro servizi, ha concluso il portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali, Stefano Anastasia.